buona giornata abbiamo una strada che ci può condurre in tutte le direzioni credenti o non credenti ed è forse quella del rispetto perché perché proprio il rispetto è quella che ci fa fare e ci fa compiere la strada che ognuno di noi ha preso nella propria vita o che sta prendendo come importante il rispetto del lavoro altrui nei luoghi di lavoro dove siamo come importante il rispetto della persona che ho accanto come importante il rispetto di quel corpo che ho accanto come importante il rispetto nei confronti di quel dio che mi accanto ecco come il rispetto ma anche l'alimentare il legame attraverso il rispetto sicuramente ci porta non solo ad essere più contenti ma dare un significato nelle cose che compiamo e che facciamo il signore ti illumini e ti benedica buona giornata